Sì, cosa fai il video? Facciamo il video. Che video? Questo qui, lo vediamo inoltre. Questo qui si chiama Kiko Brangini. Si chiama Kiko Brangini? Pare di sì. Pare di lavoro, pare di lavoro, pare di lavoro. Pare di lavoro, pare di lavoro. Pare, mi piacerebbe fare l'allenatore di pallavolo. Però adesso lo stai facendo? Lo sto facendo abbastanza, sì. È andata abbastanza bene qui? Per adesso sì. Qui siamo a Bologna, a tutti i giorni capitani. Qua non si conta altro che il risultato della partita, no? Non ci sono i punti, la classifica. Qua sono partite secche, sono partite difficili. Però adesso è andata bene. Lo faccio io per te. È andata bene con Piacenza, è andata male per molto da con Trento. Ma sono due partite molto simili dal punto di vista dell'esito finale. Si è deciso per un pallone alla fine del tie-break. Ormai giochiamo con Trento. Dal punto di vista la difficoltà della partita non cambia molto. Sono tutte squadre competitive, con un modo di giocare differente, con caratteristiche differenti. Bisognerà prepararsi. È una partita molto difficile. Tutti a Bologna perché c'è da divertirsi, non è solo questo. Tuttissimi a Bologna perché c'è molto da divertirsi. Per noi che siamo in campo un po' da soffrire, ma fa parte del nostro mestiere. Chi soffre meglio spesso goda. Buona pallavolo, Kiko. Buona pallavolo a tutti. Buona pallavolo a tutti.